L'armonia. Lo studio della musica e la passione per il canto mi hanno insegnato ad ascoltare tutto ciò che mi circonda. Attraverso di loro ho imparato a prestare attenzione alle parole delle persone e questo mi ha permesso di stare bene con gli altri. Ho lavorato in diversi contesti e con tanta gente ed ognuna di loro mi ha fatto crescere professionalmente. Ora collaboro con un gruppo di persone splendide che rafforzano in me la voglia di creare nuove note musicali. Amo il mio lavoro. La mia vita è un'infinita melodia che non finirò mai di suonare così come l'armonia che porto dentro e fuori di me non si spezzerà in nessun caso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.